Fatica, esce l'ultimo led, sia prodottabile... Partiti! E' in vantaggio Pure Planet davanti a il condottiero Drive Traug, JJ Lery, Brigant Akiram all'inizio della curva, passa JJ Lery davanti a Pure Planet Drive Traug, Blu Aireca, Desarmador, Brigant Akiram poco prima dell'ingresso, addirittura è in vantaggio JJ Lery davanti al Pure Planet Drive Traug e Blu Aireca, i cavalli entrano addirittura. E' in vantaggio JJ Lery, passa Pure Planet davanti a JJ Lery, Noir Blu, Zonderwater e in vantaggio Pure Planet davanti a Blu Aireca, Noir Blu, Zonderwater e Drive Traug, passa Blu Aireca attaccata all'esterno da Noir Blu, seguono Spinning, Park Rinbenny e Pure Planet. L'ultimo successo è come doveva essere di Blu Aireca, ma quanto c'è di Christian De Muro in questa vittoria? E' stato semplicemente sensazionale. Do un input a Ilaria e a Manuele, riguardatevi insieme quello che combina. E' un...